voglia di mare voglia di capriccio 2 i costumi più belli li trovate da noi lo sanno tutti ormai capriccio 2 è vestibilità comfort e sensualità per tutte le taglie al mare il costume è il tuo vestito affidati ai veri professionisti nel settore perché con il bra fitting 4d non esiste più un'unica misura ma ben 4 venite a provare i nostri costumi in coppie differenziate dalla c alla h capriccio 2 è in moda mare nelle migliori marche e accessori e abiti desigual oltre a pigiaveria e lingerie per il 2017 un'altra grande novità costumi in tessuto speciale per apparire fino ad una taglia più magra a controllo personalizzabile leggero medio e forte questa è davvero la grande novità del 2017 senza rinunciare all'eleganza e alla moda eleganza buon gusto e soprattutto la taglia perfetta sono le condizioni necessarie per sentirsi sicuri anche indossando solo il costume le nostre collezioni sono il prodotto di una ricerca continua per dare ad ogni tipologia di donna la certezza di essere bella anche con qualche chilo in più perché come da tanti anni diciamo la bellezza non ha né peso né taglia la valle di estate è sempre più alta e da capriccio 2 siamo pronti per farvi provare il costume che rispetta in pieno le vostre esigenze capriccio 2 vi propone costumi con le coppe differenziate anche per i sedi generosi arrivano fino alla coppa H vestiamo le grandi taglie con modelli delle nuove collezioni garantendovi anche abbinamenti con parei fuori acqua e abiti non ci dimentichiamo poi dell'uomo a cui teniamo particolarmente dalla moda al classico tinta unita fantasia sempre con i suoi abbinamenti t-shirt polo e accessori grande novità di quest'anno è il beachwear per bambino e bambina colore innovazione per essere unici anche senza limiti d'età capriccio 2 è al centro commerciale montecatini per copp siamo aperti con orario continuato dalle nove alle 21 anche la domenica capriccio 2 dove la bellezza non ha peso né taglia ciao dai l'onora